ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video fa caldo c'è il sole ma non mi fermo e sono salita un po in quota perché mi trovo a tramonti fa un pochino più fresco rispetto a casa e vi sto portando a quello che è uno dei posti delle gemme nascoste del friuli che pochi conoscono ovvero le pozze smeraldine fanno parte delle dolomiti che sono patrimonio unesco non a caso intanto vi faccio partire la traccia relive che parte da quello che è il parcheggio appunto dedicato alle pozze smeraldine quel parcheggio lì si paga un euro l'ora cinque euro per tutto il giorno le riprese e le clip che registerò parleranno presumo da sole quindi ci vediamo per la fine del video presumibilmente arrivati a questo punto avete due opzioni o scendete e andate direttamente alle pozze smeraldine a rilassarvi e rinfrescarvi altrimenti fate quello che faccio io ovvero la strada panoramica quindi si sale mentre torno verso la macchina vi dico che è meglio se venite durante la settimana perché vi dico oggi è giovedì e c'è già parecchia gente per cui non oso immaginare durante il weekend il posto merita merita farsi un giro per il percorso quello panoramico avete comunque la possibilità di scendere poi per rilassarvi e prendere il sole nel caso siate dei temerari farvi anche il bagno io adesso per l'appunto sto tornando verso la macchina ho fatto un'oretta l'andata con calma facendo foto video eccetera mentre adesso appunto sto tornando indietro se vi è piaciuto il video lasciate un bel like iscrivetevi al canale magari attivando anche la campanella per vedere e rimanere aggiornati sui nuovi video in uscita vi ricordo due video a settimana se volete lasciate un commento e fatemi sapere cosa ne pensate dei miei video in particolare di questo se vi è piaciuto o meno sempre qui sotto ma in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure noi ci vediamo al prossimo video have a nice life